Ciao a tutti, in amore non dare se non sei disposto a perdere se non sei disposto a perdere in questo video voglio farti capire che in amore se tu dai ma non sei disposto a perdere rischi di soffrire molto perché prenderai veramente il luccio delle perle interne è importante dare ma essere anche disposti a perdere l'unico modo per evitare di soffrire per amore so che può non apparire facile, può non apparire semplice però è veramente l'unico modo, è veramente l'unica modalità per stare bene, per essere felici come si può fare? come puoi dare senza aver paura di perdere? beh, intanto devi valutare il rischio cioè non è che uno dà senza, diciamo, valutare la risposta dell'altra persona è quello che vale un po' nelle relazioni in generale se io vado a comprare il pane do un euro, due euro, cinque euro, ma mi aspetto che arrivi del pane lo stesso modo nelle relazioni sentimentali effettive però spesso noi non lo facciamo mentre al panettiere nessuno darebbe, continuerebbe a dare euro giorno dopo giorno senza ricevere pane nelle relazioni sentimentali effettive spesso lo facciamo ecco, quindi bisogna mantenere questa lucidità io do per primo, mi lascio andare, ma poi aspetto di ricevere e questa è un po' la valutazione del rischio continuare a dare senza aspettative va bene ma però se poi non ricevi, a me, fuori dai maroni non vuol dire che il fatto che non ho aspettative che devo continuare a dare, a dare, a dare a fare i salti mortali per dare qualcosa senza ricevere nulla questo assolutamente non va fatto bisogna dare, ma poi aspettare, attendere se l'altra persona non ti dà non ti contrecambia allora non ti doni anch'io questo è molto importante e poi terzo punto basilare, fondamentale è imparare a mantenere il distacco del risultato cioè dobbiamo essere distaccati in modo tale da valutare anche bene le strategie da utilizzare perché non sembra ma le strategie da utilizzare sono molto importanti senza strategie, senza usare le giuste strategie non andiamo da nessuna parte quindi questo questa è un'altra cosa molto molto importante imparare a usare le giuste strategie dà anche i giusti risultati questo è fondamentale allora in amore bisogna dare non avere aspettative mettere anche uno sforzo continuo ma se non ricevi devi anche cambiare bene per questo video è tutto lascio un commento qua sotto seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi iscriviti al canale e ti ricordo che se vuoi delle risposte precise mirate alle tue domande devi abbonarti al canale abbonandoti ti darò delle risposte precise mirate alle tue domande ciao a tutti grazie a tutti